Si è aperto un nuovo fronte di giurisprudenza per le discriminazioni patite dai lavoratori sospesi che non si erano voluti assoggettare all'obbligo. Per la prima volta, infatti, su intuizione dello studio legale Sandri, ad una infermiera toscana è stata riconosciuta la violazione della normativa antidiscriminatoria sul luogo di lavoro, il decreto legislativo attuativo della direttiva CE che mira ad impedire in tutta Europa le condotte antidiscriminatorie sia nell'accesso che nelle condizioni di lavoro. Una discriminazione che può non riguardare soltanto le classiche motivazioni di tipo razziale o religioso, ma anche legate, come in questo caso, a convinzioni personali. Una causa dunque non portata davanti al giudice del lavoro come ci si aspetterebbe, ma davanti al giudice ordinario. E l'accoglimento per l'infermiera con tanto di risarcimento è stato totale. L'ordinanza è ancora una volta firmata dalla dottoressa Susanna Zanda. Vediamo nel dettaglio l'importanza di questa ordinanza. Una dipendente della USL con qualifica di infermiera lamentava di essere stata illegittimamente sospesa dal lavoro a partire dal 2 settembre 2021 fino al 31 dicembre dello stesso anno, termine poi prorogato al 15 giugno 2022 e poi ancora allargato al 31 dicembre 2022. Una sospensione chiaramente motivata dal non assolvimento dell'obbligo e dalla mancata esibizione di una esenzione. A detta dell'infermiera, la sospensione non era stata accompagnata da una corretta osservanza della normativa di riferimento che avrebbe imposto il ricollocamento adibendo la lavoratrice a mansioni anche inferiori, lavorando senza contatto col pubblico da rimoto, ciò che un'azienda come quella convenuta che gestisce molti ospedali avrebbe potuto fare. Inoltre, la sospensione dal lavoro disposta dall'azienda non è stata controbilanciata ad alcuna forma di sostegno economico, come ad esempio un assegno alimentare, visto che la donna lavorava alle dipendenze della convenuta sin dall'anno 1985 e si è vista all'improvviso privata dell'unica forma di reddito che le consentiva di vivere, con danno morale e psichico conseguente, oltre a quello patrimoniale del mancato guadagno. Poi c'erano delle valutazioni anche relative ai famosi prodotti. L'infermiera ha quindi dichiarato di agire in base alla normativa antidiscriminatoria sul luogo di lavoro, ossia il Decreto Legge 216 del 2003. In caso di dipendenti di pubbliche amministrazioni è sempre competente il giudice ordinario, in quanto viene in rilievo il diritto fondamentale a non essere discriminato, diritto che non degrada mai a interesse legittimo e che non consente alla pubblica amministrazione l'esercizio di alcun potere discrezionale. A questo riguardo vengono citate due pronunce della Cassazione a sezioni unite. L'ASL, che si costituisce in giudizio, ovviamente rigetta queste motivazioni, eccepisce l'incompetenza del giudice, sostenendo la competenza del giudice del lavoro. La normativa, che è stata sollevata dall'infermiera, riguarderebbe il caso del trattamento sperequato di un lavoratore per motivi di sesso, razza, credo religioso, convinzioni personali, handicap, età, orientamento sessuale e nulla di tutto ciò sarebbe ravvisabile in questo caso, dove semplicemente il datore di lavoro ha attuato la legge dello Stato, che imponeva la sospensione dei sanitari, quale strumento di garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il caso in esame ha ad oggetto la tutela contro condotte discriminatorie in ambito lavorativo ed è applicabile questo decreto legislativo 216-2003, che riguarda anche le discriminazioni attuate sulla base di opinioni personali. Eccolo qui il punto centrale. Cioè un lavoratore non può essere discriminato sulla base di sue opinioni, convinzioni personali. Quindi non ci sono discriminazioni solo per la nazionalità, come altri tipi di discriminazioni che possiamo immaginare, ma c'è anche quello che rileva per le convinzioni personali. Eccolo qui il punto 4. Quindi non solo è competente il giudice ordinario, ma si rientra esattamente nella disciplina antidiscriminatoria. La giudice chiaramente va a citare tutti gli appigli normativi a conferma di questo orientamento. Viene citata ad esempio la carta di inizia con l'articolo 1, dignità umana, che è inviolabile, deve essere rispettata e tutelata. L'articolo 21, che è norma incondizionata, ossia immediatamente cogente, di non discriminazione, vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare su sesso, razza, colore della pelle, origenetica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua e la religione. Eccolo qua. Le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Norme antidiscriminazione si rivengono anche nell'articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Anche qui, all'articolo 19, ex articolo 13, vengono fuori le convinzioni personali. Una persona quindi non può essere discriminata sul luogo di lavoro per le convinzioni personali che in questo caso riguardano la volontà, per propri motivi, di non sottoporsi all'obbligo. E poi c'è l'articolo 3,2 del Decreto Legislativo 216-2003, più volte citato, in cui si riferisce che la disciplina di quel presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di condizioni di ingresso, soggiorno e accesso all'occupazione, sicurezza e protezione sociale, sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute. Occorre quindi domandarsi, dice la giudice, se obbligare questi lavoratori per poter lavorare presso l'azienda convenuta, come nuovo requisito introdotto dal Decreto Legge del Governo Draghi e successive proroghe, fosse inquadrabile come misura di protezione sociale e tutela della salute. L'onere della prova non gravava sull'infermiera, ma era l'azienda sanitaria che doveva portare prove di tutto questo. Secondo la giudice Zanda, l'azienda sanitaria non ha dimostrato alcuna valida ragione che possa giustificare il trattamento sperequato nei confronti della lavoratrice se non riportandosi alla legge impositiva dell'obbligo, che sarebbe la stessa fonte della discriminazione, o ad attestazioni dell'Istituto Superiore di Sanità sull'efficacia dei noti prodotti a scopo di prevenzione. In conclusione, va affermata la natura discriminatoria della sospensione, va valutato il peso di quella sospensione nella vita e nella psiche di una persona allontanata senza valide ragioni dal suo posto di lavoro, privata senza alcuna valida ragione dei mezzi di sostentamento per oltre un anno, essendo il lavoro di infermiera l'unica forma di reddito e non potendo presumibilmente aver messo da parte significative riserve di denaro trattandosi di un modesto stipendio di infermiera che mal si prestava forme di risparmio su cui poter contare durante la lunga sospensione sofferta. Va valorizzato anche il fatto che la discriminazione è stata attuata anche con una coartazione della libertà di autodeterminazione in campo medico, inducendola a mettere a rischio la sua integrità fisica e la sua vita con la pressione psicologica di spingere la sanitaria verso il trattamento inefficace ai fini della protezione. Pertanto, tenuto conto anche della natura dissuasiva che deve avere questo tipo di risarcimento per evitare il ripetersi delle stesse condotte illecite, si stima equo riconoscere all'infermiera la somma di 200 euro al giorno per ogni giorno di sospensione discriminatoria a titolo di danno morale e psichico ed esistenziale, utilizzando quell'importo già impiegato di recente dal Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo con la sentenza dipositata il 25 ottobre scorso per le restrizioni regionali attuate in Sicilia nei confronti di un bambino durante il lockdown impedendogli di giocare all'aperto per cinque giorni. Si ritiene che questa situazione dell'infermiera sia anche più grave, ma comunque riconoscendole gli stipendi di tutto il periodo di sospensione e la continuità previdenziale si può liquidare anche in questo caso per il danno non patrimoniale la somma di euro 200 da moltiplicare per ogni giorno di discriminazione attuata mediante la sospensione dal lavoro con decorrenza dal 2 settembre 2021 fino alla cessazione della sospensione. Quindi si accerta che la donna ha subito discriminazione consistita nella sua sospensione a partire dal 2 settembre 2021, condanna l'azienda sanitaria a derogare immediatamente tutte le retribuzioni che avrebbe dovuto erogare in tutto il periodo in cui la lavoratrice è stata sospesa e avversare i contributi omessi per tutto il periodo di sospensione illegittima, apprezzando l'intero periodo di sospensione anche ai fini dell'anzianità di servizio. Condanna l'azienda sanitaria a risarcire il danno non patrimoniale sofferto dall'infermiera per atti discriminatori, liquidandoli in euro 200 per ogni giorno di sospensione. Condanna l'azienda a rimborsare all'attrice le spese di lite che liquida in euro 286 per spese vive e 7616 per onorari oltre accessori di legge. Insomma, una battosta clamorosa per l'azienda sanitaria e un principio che viene dunque riconosciuto importantissimo. La cosa più interessante di questa ordinanza è che tutte le discriminazioni sono vietate, anche quelle che appunto riguardano le convenzioni personali, quindi anche quelle relative ai noti prodotti pasticcini. E che in un'azione basata sulla discriminazione c'è un'inversione dell'onere della prova, se il ricorrente dimostra l'esistenza di elementi di fatto dai quali è possibile desumere la discriminazione, e c'è una legge, è il datore di lavoro a dover dimostrare che la discriminazione non c'è stata, cosa che l'azienda sanitaria in questo caso non è affatto riuscita a fare. E per questo è stata stangata dal giudice. Un'altra ordinanza importantissima sono ordinanze che arrivano ad alcune zone d'Italia, come il caso del bambino costretto al lockdown risarcito in Sicilia, ora di nuovo Firenze, sono tutti segnali che altri giudici potrebbero raccogliere in altri procedimenti.